Buonasera, ben ritrovati con Decoder. Questa sera ci occupiamo di Albino. Un anno fa questa trasmissione ospitava il confronto tra i candidati alla carica di primo cittadino della città della Mediavalle. Questa sera invece ospitiamo i rappresentanti dell'amministrazione comunale per un bilancio del primo anno dell'amministrazione Terzi. In studio con noi abbiamo il primo cittadino Fabio Terzi, buonasera, Gerry Gualini, capogruppo di Peralbino Progetto Civico, buonasera, e Alessandro Ferrara del Movimento 5 Stelle. Questi i nostri ospiti, con loro possiamo entrare nel merito di diversi argomenti che stanno animando la vita politica amministrativa della cittadina. Il punto di partenza ci riporta l'ultima seduta del Consiglio Comunale nella quale è stato approvato il bilancio. Anche Albino è stata toccata dai tagli ai trasferimenti. Sentiamo innanzitutto il primo cittadino. Quale quadro ci può drineare? Sì, è vero, ma il Comune è mezzo gaudio, nel senso che anche Albino, come tantissimi altri comuni della provincia di Bergamo, hanno dovuto fare i conti con ulteriori tagli al trasferimento dal Fondo di Solidarietà. Per cui non è stato certo facile costruire il bilancio di previsione per l'anno 2015. Quest'anno il taglio rispetto al consuntivo del 2014 era di 221 mila euro. Qui si devono aggiungere però circa 200 mila euro che abbiamo subito in corso d'opera l'anno scorso. Appena insediato, a settembre del 2014, ho subito un taglio di quasi 200 mila euro che adesso è diventato strutturale. Per cui rispetto a quanto era stato messo in previsione sul 2014, quest'anno il taglio è di più di 400 mila euro. Qui bisogna aggiungere 130 mila euro che in parte corrente io devo immobilizzare, questa è la nuova legge, devo immobilizzare in un fondo di riserva, in un fondo rischi, chiamiamolo così, per i cosiddetti crediti di dubbia esigibilità. Sono altri 130 mila euro che io in parte corrente devo bloccare e tenere i fermi. Per cui alla fine della fiera i soldi che ho in meno in parte corrente sul 2015 sono più di 500 mila euro. A fronte di questa mancanza di risorse in parte corrente molto molto forte e pesante, siamo stati obbligati a ritoccare un po' quelle che sono le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF. Un ritocco che ha interessato soprattutto le fasce di reddito più alto e meno pesante sulle due fasce di reddito più basse, con un introito di circa 300, previsto di 350 mila euro. Il restante lo abbiamo colmato ovviamente con dei tagli. Non è certamente facile andare avanti così, con questi continui tagli che da anni ormai si susseguono, ahimè da parte dello Stato centrale, non abbiamo potuto far di meno che ritoccare le aliquote, ripeto, perché al di là dei tagli era impossibile portare in parte corrente altri oneri. La legge nazionale ci consente di portare per il 50% oneri in parte corrente, però è anche vero che una parte degli oneri hanno una destinazione specifica, per cui non si possono togliere da quella destinazione lì. Altri erano già impegnati perché a scomputo di questi erano previsti delle opere pubbliche, così come previsto nei piani attuativi del piano di governo del territorio. Ecco, ma sentiamo anche gli altri consiglieri. Guarini, il vostro voto non è stato favorevole? No, il nostro voto è stato contrario, è ovvio che noi non ci nascondiamo dietro un dito, non è che quando eravamo in maggioranza mettevamo davanti tutte le difficoltà e adesso che siamo in minoranza pensiamo che le cose siano facili. È stato un bilancio costruito sicuramente con fatica anche da questa amministrazione, i tagli e il patto di stabilità condizionano severamente la vita dei comuni, i bilanci dei comuni, però è fuori di dubbio che abbiamo proposto e siamo convinti che si potesse fare qualcosa di diverso. Il qualcosa di diverso sta soprattutto nella necessità che è stata riscontrata di aumentare l'IRPEF. Le fatiche di quest'anno non sono nuove, sono le stesse fatiche degli anni scorsi perché gli impedimenti del patto di stabilità e la riduzione dei trasferimenti dello Stato non sono una novità neanche in corso d'anno. Quando a bilancio ho fatto tu ti ritrovavi, come è successo anche per l'anno scorso per l'amministrazione Terzi, ad avere significative riduzioni, ulteriori riduzioni. Questo ha determinato ovviamente la difficoltà di riuscire a fare in modo che il bilancio potesse essere da subito costruito con serenità, ma però negli anni scorsi siamo sempre riusciti a evitare che ci fosse la necessità di incrementare le tasse. La scelta dell'amministrazione è stata invece quella di aumentare l'IRPEF e noi abbiamo provato a spiegare con degli emendamenti che erano sicuramente complessi, articolati, che potevano essere sicuramente messi in discussione, ma il cui spirito era sicuramente quello di dire è necessario evitare di dover aumentare l'IRPEF. Ne abbiamo fatti due, con il primo poteva essere più complicato togliere completamente questo aumento dell'IRPEF, con il secondo abbiamo ipotizzato di dimezzarle l'aumento. Di fatto l'amministrazione ha preferito tenere l'aumento che aveva già impostato senza utilizzare neanche quella cifra significativa che all'ultimo momento era stata liberata sul trasferimento dallo Stato e quindi lasciando comunque all'interno dell'aumento dell'IRPEF altri 100.000 euro che avrebbero potuto essere evitati. Scuteva la testa Terzi, ma lo sentiamo dopo. Ferrara, voi invece il vostro voto è stato di astensione, giusto? Sì, noi ci siamo astenuti su quello che riguarda il bilancio perché fondamentalmente riconosciamo all'amministrazione Terzi di aver fatto un discreto lavoro nella programmazione del 2015. Chiaramente, come dicevano tutti e due i colleghi, i problemi non derivano tanto dall'amministrazione del Comune di Albino ma quanto da tagli che vengono fatti dal Governo centrale. In questo caso sono tagli che comunque continuano da anni, indipendentemente da chi ci sia stato al Governo, centro-destra, centro-sinistra, negli ultimi dieci anni più o meno si è sempre puntato su tagliare le risorse degli antilocali. Purtroppo noi ci auspichiamo che ci sia un cambio di questa politica ma in questo momento bisogna lavorare con quello che si ha in mano. L'amministrazione naturalmente ha fatto per noi un buon lavoro, il nostro voto è stato un voto di astensione su quello che è il bilancio in generale mentre ad esempio abbiamo approvato le nuove liquote IPEF con la modifica presentata dall'amministrazione quindi con una riduzione di quello che era l'aumento iniziale. Voto di astensione perché? Perché reputiamo un lavoro comunque buono quello che è stato fatto, non ci convincono alcune scelte, soprattutto su degli incarichi a di fuori del Comune che vengono assegnati dall'amministrazione, su dei nominativi e per questo comunque aspettiamo di valutare poi a fine 2015 quello che sono poi il lavoro che è stato portato avanti. Terzi. Sì, io scortevo la testa nel senso che è evidente che abbiamo colto lo spirito degli emendamenti al bilancio dell'opposizione. Chi ha voglia o ha piacere aumentare le tasse, questo è evidente. Però poi bisogna anche fare, bisogna confrontarsi con quella che è la realtà dei fatti nel senso che le proposte che si sono state fatte dalla minoranza parlo appunto delle tre liste civiche che fanno capo al consigliere Gualini erano proposte che tecnicamente da un punto di vista contabile erano poco fattibili nel senso che una delle proposte era di portare più oneri appunto in parte corrente in modo tale da compensare quel buco così, con più oneri in parte corrente non usando la leva fiscale. Però come ho detto queste proposte sono state già di principio bocciate dai revisori dei conti e dai responsabili dell'area ragioneria proprio perché avevano questo vizio dal punto di vista tecnico contabile non potevamo portare altre oneri in parte corrente perché già vincolati e già destinati altrove. Ripeto, lo spirito c'è tutto, nessuno vuole aumentare le tasse ma poi i numeri sono lì da vedere e bisogna fare delle proposte concrete e che siano in linea con quelli che sono i regolamenti della contabilità del Comune di Albino. Per quanto riguarda il fatto che non abbiamo voluto tenere presente quel qualcosina in più che poi ci siamo ritrovati in entrata come trasferimento del fondo di solidarietà non è vero perché metà l'abbiamo usato per ridurre quell'aumento come ha fatto dell'IRPEF un'altra metà l'abbiamo tenuto comunque lì perché in corso dell'anno sarà confermato o no questo tipo di trasferimento perché finora abbiamo una comunicazione del Ministero ma il decreto attuativo non c'è ancora per cui non è detto che davvero quel trasferimento dal fondo di solidarietà corrisponde a quello che ci è stato comunicato un buon amministratore deve usare prudenza e buonsenso per cui ho ritenuto opportuno insieme al mio assessore al bilancio comunque riservarci quel 90-95 mila euro lì come tesoretto fermo nel caso che davvero il taglio dei trasferimenti fosse un po' di più e poi c'è il problema del patto di stabilità questo è un dato di fatto ci sono delle entrate che non possiamo prevedere nel previsionario perché non sono certe come gli utili delle società partecipate non è detto che su un anno, su un esercizio questo utile, questo dividendo possa essere staccato l'anno scorso ad esempio Anita per Albino ha staccato un dividendo di 50 mila euro che è sicuramente servito a fine anno chiaramente per far fronte a quel taglio di cui ho parlato poc'anzi ma io in fase di bilancio di previsione questo eventuale utile non lo posso mettere in previsione come entrata non me lo certificherebbero né le responsabili della mia ragioneria neppure i revisioni dei conti quindi la necessità chiaramente di scontrarsi con la dura realtà dei numeri il bilancio non è una cosa così che sta in piedi per spirito desiderio sono numeri e con i numeri bisogna ragionare in una certa maniera Guadini, vuole aggiungere qualcosa? Sì, è fuori discussione che gli argomenti che porta il sindaco sono argomenti credibili però, ripeto, ci sono alcune scelte che secondo me avrebbero dovuto essere ponderate in maniera diversa e la riduzione del taglio del trasferimento è stata una riduzione corposa cioè parliamo di 197 mila euro che tra la presentazione del bilancio e poi invece la votazione sul bilancio potevano essere davvero utilizzate per ridurre da 480 mila euro a 283 mila euro l'impatto dell'aumento IRPEF mentre l'amministrazione ha preferito tenersi in casa 97 mila dei 100 mila non parliamo di pochi soldi è fuori discussione che nel corso dell'anno possono esserci anche altre sorprese ma se siamo in questa situazione, in questo momento la tendenza dovrebbe essere quella ad allargare le maglie queste sono le promesse di tutti ma soprattutto le promesse concrete legate alla possibilità di accedere alle facilitazioni relative alle facilitazioni che possono mettere in campo la regione ad esempio o lo Stato stesso questo secondo me è importante perché cambia il punto di vista che vogliamo mettere in atto oltretutto cosa veramente importante è il fatto che l'obiettivo di patto di stabilità è cambiato in maniera significativa rispetto agli anni scorsi nell'amministrazione Carrara un obiettivo l'anno scorso del patto di stabilità era fissato a 1 milione 600 mila euro quest'anno è fissato a poco più di 200 mila euro capite che gli spazi che possono essere a disposizione sono significativamente diversi e questo dovrebbe consentire, avrebbe dovuto consentire all'amministrazione di muoversi senza utilizzare la leva fiscale perché ripeto ogni anno è stato così non è una novità, ogni anno ci sono stati tagli in corso d'opera ma ogni anno si è riusciti a far fronte agli impegni oltretutto l'eredità dell'amministrazione Carrara è anche rappresentata dal fatto che il fotovoltaico il progetto sul fotovoltaico porta in cassa dallo scorso anno circa 200 mila euro all'anno poi se piove tanto come l'anno scorso sarà qualcosa meno se piove poco sarà qualcosa di più ma queste risorse non erano presenti negli anni precedenti e quindi secondo me c'era la possibilità di agire in maniera diversa Ecco, non mi sembrava convinto di nuovo il primo cittadino non so se nel frattempo Ferrara vuole inserirsi no, lascia andare Terzi, ancora un piccolo passaggio poi ci sarà l'interruzione Sulla questione del patto di stabilità permettetemi di dissentire nel senso che allora l'obiettivo di patto dell'anno scorso ultimo esercizio dell'amministrazione Carrara al netto di tutti quegli sgravi, quegli leggeramenti era non di un milione e semi, era di 800 mila euro al netto quest'anno sarebbe di circa 300 mila euro è vero, sono 500 mila euro in meno però il consigliere Gualini si è scordato di dire che noi a gennaio abbiamo pagato il ponte la cui opera si è conclusa a dicembre per un importo di 2 milioni e mezzo di euro ora il pagamento di quest'opera ci porta l'obiettivo patto a 2 milioni e 800 mila euro mai un'amministrazione si è trovata di fronte a un obiettivo patto di questo tipo le leggi perverse che regolano proprio l'obiettivo del patto di stabilità fanno sì che un'opera finanziata da anni se io la vado a pagare nell'anno in cui io l'opera la concludo quei soldini mi vengono visti solo in uscita allora obiettivo patto solo di 300 mila euro pagato ponte 2 milioni e mezzo l'obiettivo patto per il comune di Albino quest'anno di 2 milioni e 800 mila euro vuol dire che il comune di Albino deve chiudere il suo bilancio 2014 con un avanzo inutile diciamo di 2 mila e 800 mila euro io devo cioè incassare in parte il conto capitale dei soldini e non usarli ok? ecco noi questo obiettivo patto l'abbiamo già ridotto di circa 400 mila euro perché entro la fine di aprile ci sono già entrati oneri di urbanizzazione per quell'importo ma io questi soldi li devo tenerli fermi per centrare l'obiettivo patto è per questo che è molto molto difficile costruire un bilancio con un anche al di là dei trasferimenti che abbiamo avuto del taglio dei trasferimenti dal fondo di solidarietà abbiamo anche questo obiettivo patto che mai prima d'ora il comune di Albino nel corso di qualsiasi esercizio finanziario ha dovuto far fronte sono 2 milioni e 800, sono tanti stiamo cercando, abbiamo messo in atto nel nostro bilancio delle strategie per riuscire a centrare questo obiettivo ricorrendo eventualmente anche a uno spazio orizzontale che la regione potrebbe cederci cioè a rimandare all'anno successivo una parte di questo obiettivo è vero, il bilancio è stato costruito inevitabilmente attorno all'obiettivo di patto Ok, siamo entrati un po' nel tecnico forse da casa non sono riusciti a seguirci a dovere intanto ci fermiamo per una breve introduzione tra poco Torniamo in onda domani il prefetto di Bergamo incontrerà i primi cittadini della Valle Seriana tra questi anche Fabio Terzi l'obiettivo del prefetto è trovare disponibilità da parte dei sindaci per avere spazi di accoglienze per gli immigrati che sono sbarcati sulle nostre coste Terzi, domani cosa dirà il prefetto? Sto raccogliendo un piccolo dossier di tutte le miserie del Comune di Albino perché ahimè sono 11 mesi che mi sono insediato sul tavolo ho già quasi una decina di sfratti in corso per famiglie estrogomunitarie altrettanti per famiglie italiane senza calcolare la coda di persone che ho senza lavoro e ultimamente arrivano anche cittadini albinesi, italiani, non solo estracomunitari perché ormai la crisi è sempre più profonda morde e anche i nostri concittadini sempre orgogliosi e impegnati a lavorare e abbassare la testa ahimè si ritrovano da anni senza lavoro la situazione albino è difficile ricordiamo che una realtà imprenditoriale come il cotonificio Oneger ha chiuso, fallito un paio di anni fa una mobilità per oltre 300 dipendenti che dovrebbe chiudersi entro quest'anno la situazione albino è davvero difficile a malapena riusciamo a venire incontro alle esigenze dei nostri cittadini siano essi italiani o cittadini estracomunitari ma tutti i cittadini residenti in Albino qui l'amministrazione deve dare delle risposte alla stessa maniera a tutti quanti io francamente sarei un pazzo privo di senso di responsabilità se mi portassi a casa anche un estracomunitario in più un profugo o un totale per cui bisogna ancora anche stabilire effettivamente la qualifica, lo status giuridico di profugo abbiamo visto quando abbiamo fatto un bando per dei voucher c'è stata davvero una lista infinita decine e decine di persone senza lavoro che si sono messi in lista per 200 euro di voucher e fare quel lavoretto piuttosto che l'attraversamento stradale presso le scuole elementari e medie io francamente sarò sincero sarò schietto con il prefetto non posso assolutamente dare alcuna disponibilità come comune per le strutture comunali mettere a disposizione tra altre cose dovremmo anche intervenire eventualmente su queste strutture comunali da mettere a norma e sono altri soldini non riesco a correre dietro alle esigenze che ho sul territorio abbiamo le strade che fanno paura io ho una linea che ho già ben definito insieme alla mia amministrazione che è questa che vi ho detto non posso permettermi davvero di disobbarcarmi la responsabilità di dover mantenere delle altre persone rispetto a chi già mi fa la coda fuori dall'ufficio o dal mio assessore ai servizi sociali Gualini cosa dovrebbe fare l'amministrazione del BN di fronte a una situazione come questa? Su questo tema siamo davvero lontani dall'amministrazione Terzi non è questione di lucrare sulle difficoltà dei profughi per poter acquisire un'identità propria politica ma è fuori discussione che abbiamo davvero vedute completamente diverse le persone che dovrebbero o potrebbero arrivare nei nostri comuni sono persone che hanno necessità davvero importanti fuori discussione che vada approfondito tutto l'iter per capire quali sono profughi e quali invece sono arrivati in Italia per motivazioni diverse che non sono comunque certamente comunque leggere neanche quelle ma è chiaro che nella misura in cui parliamo di profughi è veramente sorprendente che l'amministrazione pensi di chiudere completamente le proprie porte e evitare qualsiasi tipo di disponibilità una delle prime cose che ha fatto l'amministrazione Terzi nell'autunno e nell'inverno scorso è stata quella di approvare una delibera di giunta nella quale veniva revocata una precedente delibera di giunta dell'amministrazione Carrara proposta in quell'occasione da me in accordo con il comune di Bergamo che non era certo un soggetto di centro-sinistra nella scorsa amministrazione che prevedeva di collaborare nell'accoglienza eventuale di profughi provenienti attraverso il progetto Sprar di fatto quindi la giunta Terzi da subito ha voluto marcare con il pennarello rosso che su questo tema la Lega aveva messo le sue aveva posto il suo diritto a riscuotere l'appoggio alla candidatura Terzi non si è ovviamente fermata qui la situazione perché c'è stata subito dopo una mozione presentata dalla Lega Nord nella quale si voleva impegnare il sindaco e l'amministrazione a rifiutare qualsiasi tipo di accoglienza dei profughi naturalmente è chiaro siamo in democrazia la maggioranza ha deciso che quella mozione venisse approvata e quindi il sindaco penso che dovrà andare dal prefetto anche con questo impegno in tasca che ha ricevuto da parte del consiglio comunale noi abbiamo votato contro in quell'occasione e continuiamo a essere assolutamente contrari oltretutto perché i profughi secondo il progetto SPRAR non sono a carico del comune per il comune non è prevista una spesa pro capite né in termini di erargizione diretta ai soggetti che vengono ospitati né in termini di necessità di creare sovrastrutture apposite è naturale che le persone si accolgano in strutture che possono essere all'altezza per farle in passato sono state individuate da parte del prefetto che ha piena autonomia su questo tema oltretutto strutture comunali pubbliche o strutture private in genere legate anche al mondo cattolico e quindi l'unica cosa su cui eravamo d'accordo nel contenuto di quella mozione era il fatto che fossero decisioni calate dall'alto in cui il prefetto decidesse queste persone arrivano nel tuo comune e quindi tu non ti puoi opporre adesso il prefetto ha indetto appunto un incontro e quindi ha aperto una via di dialogo con i sindaci e quindi questo lo ritengo una cosa assolutamente importante e a mio parere a nostro parere deve essere la posizione di Albino deve essere una posizione dialogante non saranno i profughi che arriveranno mai ad Albino dovessero arrivare non saranno certo loro a mettere ulteriori difficoltà alle persone che abitano ad Albino che indubbiamente sono tante si trovano in difficoltà ma non dipenderà mai dall'arrivo dei profughi un ulteriore peggioramento della loro situazione o un aggravio della situazione della possibilità della disponibilità del comune a far fronte a queste necessità Ferrara invece voi cosa ne hai pensato stavo giusto ripensando a quello che diceva Guadini sulla mozione presentata dall'attuale maggioranza in consiglio comunale e in effetti anche noi in quel caso votammo contro perché comunque reputiamo che il problema così come era stato posto nella mozione non fosse non fosse ben inquadrato nel senso che comunque il problema dell'immigrazione il problema dei profughi è un problema è un problema nazionale più che un problema locale e andava affrontato in maniera differente purtroppo l'Italia a nostro avviso ha perso una grandissima occasione col semestre di presidenza dell'Unione Europea per porre al centro della discussione quello che è l'emergenza profughi e quindi in questo momento ci si trova poi a dover affrontare come al solito con quello che c'è da un punto di vista capisco benissimo anche quello che dice quello che dice il sindaco ed è assolutamente condivisibile nel senso che comunque Albino ha i suoi problemi e gli albinesi hanno i propri problemi e quindi bisogna puntare prima a risolvere i problemi di chi abita ad Albino piuttosto che andare poi ad ospitare altre persone è anche vero che queste persone come diceva Gerry non sono comunque a carico del comune ma vanno però ospitate in strutture adeguate e quindi se le strutture adeguate non ci sono bisogna anche valutare come e dove accogliere questi profughi non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa terzi al di là che le strutture non ci siano o ammesso non concesso che ci fossero io come azione prioritaria devo metterci dentro le famiglie in difficoltà già residenti sul comune di Albino un mesetto fa circa per la prima volta della storia del comune di Albino è stato reso esecutivo uno sfratto per una famiglia estracomunitaria abbiamo dovuto in fretta e furia trovare una collocazione per lo meno della madre dei quattro minori a carico in una struttura comunale sul piatto ne ho già diversi in potenza di questi sfratti io dovrò a breve trovare delle collocazioni in strutture comunali a queste persone che sono sul loro del Bartolo e che tra poco verranno messe fuori casa io ho già questi problemi si parla di decine di persone sono diverse famiglie per cui è vero che questi profughi non sono a carico del comune ma io comunque li devo mettere in una struttura comunale la devo sistemare la devo rendere idonea la devo mettere in sicurezza la devo aggiornare ma questo lo faccio rispondendo prima ai problemi che ho già sul territorio quelle famiglie italiane che già risiedono sul territorio di Albino e che hanno questi problemi cioè andremmo a aggiungere problemi a problemi risolviamo prima le situazioni e sono tante e in potenza si prospettano ancora di più in aumento prima di portarci qua a altri problemi e sicuramente questa situazione è comune a tante altre realtà tra altri comuni della Valseriana e della provincia di Bergamo Gualini chi deve la parola sì io mi chiedo però se dietro a questo atteggiamento ci sia solamente proprio un atteggiamento puramente di tipo amministrativo e quindi legato alle difficoltà del momento o quanto invece non ci stia anche la necessità di voler affermare la così la posizione almeno di una parte sicuramente della maggioranza che sostiene Fabio Terzi questo da un lato dall'altro lato credo che comunque avendo noi nel comune di Albino la disponibilità di strutture di proprietà della 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 chiesa qualora il prefetto si accordasse con la curia per ad esempio ospitare un gruppo di persone in una struttura della curia mi viene in mente la Trinità per dirne una quale sarebbe l'atteggiamento della del comune di Albino oltretutto veramente resto allibito di fronte al fatto che stiamo leggiamo sui giornali proprio in questi giorni che gli stati europei che non sono quelli italiani cercano di nicchiare sulla loro responsabilità nei confronti dei profughi e a cascata noi non vogliamo assumerci la responsabilità seppur minima seppure concordata visto che potrebbe esserci la possibilità di farlo di ospitare uno due dieci profughi ma ospitarli in maniera costruttiva condivisa e non a spese del comune lo ribadisco allora se non ci sono altre integrazioni io andrei oltre inizierei con un argomento poi comunque ci sarà un'interruzione iniziamo a spendere alcune parole ad Albino l'amministrazione comunale sta lavorando per introdurre una nuova forma di tassazione per quanto riguarda la raccolta indifferenziata dei rifiuti si dovrebbe arrivare a un sistema per cui ogni famiglia spende in base a quello che effettivamente viene gettato nell'immondizia Terzi ci puoi un po' spiegare meglio? Lo farò per sommi cavi perché diciamo che questa operazione l'ho affidata pienamente nelle mani del mio assessore all'ecologia che sta collaborando anche con alcuni membri del 5 Stelle per sviluppare questa nuova forma che la chiamiamo di tariffa puntuale adesso Albino vige l'utilizzo del sacco rosso che è il sacco prepagato noi vorremmo arrivare invece a una soluzione definitiva detta appunto della tariffa puntuale in modo tale che i cittadini paghino per l'effettiva produzione dei rifiuti in cosa consiste questa tariffa puntuale stanno adesso analizzando che formule in termini proprio concreti materiali adottare se un bidone con un barcode o dei barcode a etichetta poi da attaccare sui singoli sacchetti ora io personalmente non ho mai criticato così tu curte l'operazione del sacco preparato io misi in evidenza alcune criticità ma sostanzialmente non fui mai uno dei detrattori al 100% del sacco rosso criticai quando in una fase ormai avviata fu sostituito il sacco rosso con un altro tipo di sacco dalle dimensioni diverse e dalla capacità inferiore per cui in quell'occasione con una dimostrazione anche pratica in consiglio comunale evidenziai come il nuovo sacco avesse un 20-30% in meno di volume per cui a parità di costo le cose non tornavano ma di per sé il concetto del prepagato io non lo criticai mai così a 360 gradi poteva essere una discreta soluzione come può essere interessante superare e arrivare appunto a altri metodi che permettono proprio di arrivare a una tariffa puntuale uno paga un servizio di smaltimento per quanto effettivamente produce stanno lavorando a questo ripeto l'assessore all'ecologia abbiamo in corso un appalto con un operatore che chiaramente dovrà aggiungere al suo termine non so se mancano due anni o un anno e mezzo abbiamo tutto il tempo proprio per sviluppare un nuovo sistema e per poi chiaramente inserirlo produrlo all'interno della prossima gara d'appalto non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa in modo molto rapido Gualini il sacco rosso credo che abbia portato alcuni risultati che sono sotto gli occhi di tutti la raccolta differenziata è aumentata il sacco rosso ha in sé il concetto che è l'analogo che è analogo nella nuova proposta che non è ancora stata illustrata alle minoranze ovviamente quindi di cui io non sono a conoscenza ma il concetto è che io pago per quanto produco attraverso il sacco rosso io pago il sacco rosso quindi meno sacchi rossi vado a utilizzare perché differenzio maggiormente e meno pago e quindi il concetto è lo stesso se si può migliorare attraverso un'altra tipologia di metodo va benissimo purché si tenga presente che appunto il rischio che è stato tanto sbandierato in passato che e poi i rifiuti finiscono nella valletta piuttosto che vengono messi nei cestini distribuiti lungo il comune è un rischio che continuerà ad esserci perché non possiamo far altro che lavorare parallelamente sull'attenzione a che le cose vengano fatte bene sulla cultura da migliorare nella cittadinanza perché altrimenti qualcuno che butterà i sacchi fuori dal finestrino li avremo sempre tutto quello che si può migliorare è bene accetto ma in questo momento fino ad ora voglio ribadire che il sacco rosso ha dato notevoli miglioramenti e benefici per il comune di Albino sia in termini di riduzione del rifiuto indifferenziato sia in termini dell'aumento della quota che invece viene differenziata sia generalmente in termini anche relativi alle vicinanze con gli altri comuni che già avevano il sacco rosso e quindi Albino rischiava di trovarsi con rifiuti che provenivano da comuni vicini ci fermiamo per una breve interruzione tra poco torniamo in onda ci stiamo occupando della gestione della raccolta dei rifiuti dell'indifferenziata Ferrara del Movimento 5 Stelle ci può aiutare a capire meglio come può funzionare un sistema per cui ogni famiglia può essere misurata in base a quello che butta via nella spazzatura assolutamente sì come diceva il sindaco terzi stiamo collaborando con l'assessore Moretti per arrivare a quella che sarà la tariffa puntuale tariffa puntuale che per noi è un passo avanti importante rispetto all'attuale sacco rosso che assolutamente Guadini sono d'accordo ha portato dei benefici rispetto a prima ma non ha risorto completamente la situazione in quanto il sacco rosso non è non è censito nel senso che non si ha non si sa con certezza chi compra i sacchi quindi alla fine non si riesce neanche a sapere se tutte quante le famiglie erbinesi acquistano sacchi rossi e quindi poi se effettivamente utilizzano il sacco rosso per la differenziata va inoltre detto che all'interno del sacco rosso noi abbiamo fatto un'analisi merceologica a dicembre nella piattaforma ecologica analizzando il contenuto di oltre 100 sacchi e abbiamo trovato che oltre il 60% di quello che era contenuto all'interno dei sacchi rosso attualmente era differenziabile e quindi recuperabile che vuol dire vuol dire che comunque spazio per il miglioramento ce n'è e ce n'è tanto e quindi cosa facciamo cosa proponiamo la nostra proposta è stata quella di fare la tariffa puntuale tariffa puntuale in cui molto probabilmente adesso si sta come diceva il sindaco si sta valutando se un sacco con un barcode da attaccare sopra oppure un contenitore non tanto con un barcode quanto con un dispositivo wifi che permetta quindi un ritiro più veloce più rapido e più snello permetterà di verificare effettivamente quanto ogni famiglia va a produrre e non ci sarà possibilità di non avere comunque un dato nel senso che comunque sia mentre col sacco rosso bisogna comunque andarlo a comprare non si ha la certezza che venga comprato da tutti quanti col barcode quindi con la tariffa puntuale verrà comunque fatturato un minimo di svuotamenti faccio un esempio una famiglia di tre persone avrà statisticamente statisticamente è stato visto che produce mediamente un 4 svuotamenti all'anno quindi in conseguenza la fatturazione minima sarà 4 svuotamenti questo permetterà quindi a tutti quanti di essere interessati anche nella differenziata anche perché non è che c'è più la scappatoia di dire ok butto nelle vallette non compro sacco rosso risparmio in questo caso comunque lo svuotamento verrà contabilizzato quindi di conseguenza se uno poi butta nelle vallette certo non è che si potrà sradicare definitivamente il problema anzi probabilmente il problema continuerà a sussistere però ci sono anche poi delle varie attività che possono essere messe in atto per andare poi anche a capire chi è che effettivamente ha buttato la spazzatura nelle vallette a me è capitato in più di un'occasione di avere a che fare con personale del corpo forestale dello Stato che chiedeva informazioni su come risalire magari a proprietari di determinata spazzatura che avevano trovato faccio un esempio classico all'interno di delle buste di spazzatura buttate nelle varie vallette nelle varie zone di montagna trovavano le classiche ricariche telefoniche piuttosto che gli scontrini dei supermercati da quello chiaramente si può andare a risalire a proprietario per virgolette del sacco e quindi di conseguenza si può anche andare poi eventualmente a sanzionarlo in conseguenza penso che la tariffa puntuale possa essere veramente un passo avanti verso una migliore gestione dei rifiuti Allora Ferrara chiaramente c'è un'applicazione di tanta tecnologia in un sistema come questo mi chiedevo se ci sono già dei comuni che utilizzano un sistema simile o se Albino può essere destinato a essere il primo in Italia No no assolutamente ci sono tanti comuni che stanno già facendo questo ne avevo parlato da suo tempo anche in campagna elettorale un anno fa quando ce l'avevamo trovati proprio qui a Decoder con gli altri candidati uno su tutti posso fare tanti esempi ne faccio uno che assolutamente non è un comune gestito dal movimento che è il comune di Prato dove la tariffa puntuale è già stata impostata tempo addietro ci sono anche dei servizi di gestione dei rifiuti sovracomunali come ad esempio Contarina in Veneto che si occupa di differenziata di raccolta differenziale di tariffa puntuale quindi assolutamente non è una cosa per cui Albino sarebbe un pilota ma è una cosa già strutturata a tariffa puntuale ci sono oltre 300 comuni che vanno già a tariffa puntuale in tutta Italia e quindi è un progetto che comunque funziona sta dando i suoi frutti non so se Gualini voleva aggiungere qualcosa sì ripeto non sono un esperto in materia quindi mi limito ad accogliere le buone proposte spero che però sia un progetto che possa andare oltre la risoluzione dell'attribuzione dell'acquisto dei sacchi alle famiglie perché se è solo per quello è chiaro che si può risolvere con molto meno perché quello che dovremmo andare a vedere è quanto si spenderà per un progetto di questo genere lì sarebbe sufficiente ovviamente l'avevamo già studiato perché non è che si nasce proprio ieri nessuno è chiaro che laddove gli negozianti vendono il sacco rosso sarebbe necessario sarebbe stato necessario avere un'anagrafe delle persone a cui viene venduto questo voleva dire mettere in piedi un software e il software ha un costo 12-13 mila euro e in quel momento non era stato possibile farlo se la differenza fra i due progetti si limitasse a questo credo che avremmo qualcosa magari da approfondire perché magari con molto meno si riesce a fare altro immagino e voglio sperare che il progetto possa essere di più ampio rispiro e quindi possa dare risposte in maniera più compiuta e completa perché per quanto ho sentito fino ad ora non va a togliere quelli che sono i difetti del sacco rosso però per carità vedremo e giudicheremo se anzi l'amministrazione anziché collaborare solo con il Movimento 5 Stelle volesse collaborare anche con noi qualcuno che si occupa anche di quest'ambito c'è sicuramente un anno fa qui a Decoder con i rappresentanti o perlomeno con i candidati alla carica di primo cittadino non parlavamo soltanto di gestione della raccolta differenziata e indifferenziata dei rifiuti ma parlavamo anche di via Mazzini quindi della viabilità del centro terzi allora cosa avete fatto come sta andando beh uno dei primi atti della mia amministrazione è stato proprio quello di aprire la via Mazzini parlo del luglio 2014 al traffico veicolare cioè eliminare la ZTL che era stata istituita nei pomeriggi ora è evidente l'abbiamo sempre detto l'ho sempre detto questo è il primo passo il progetto è ben più ampio e ambizioso è quello cioè di realizzare una zona 30 con un opportuno arredo urbano funzionale alla medesima perché è evidente che se uno mette il cartello dei 30 all'ora all'inizio della via e basta non serve a niente l'idea è proprio quella di realizzare un arredo urbano che metta in sicurezza quello che è il traffico delle biciclette e dei pedoni ma nello stesso tempo consenta anche il traffico veicolare una serie di arredi io ho sempre detto ho sempre richiamato l'esperienza dei paesi tedeschi Germania Austria dove in realtà urbane del tipo di quelle di Albino non parlo delle grandi città ma delle cittadine di 20-30 mila abitanti la zona 30 è molto in voga è molto utilizzata con degli opportuni elementi di arredo urbano si creano dei percorsi particolari per cui le autovetture devono andare piano vengono localizzati degli stalli dei parcheggi ben precisi e al di fuori di quelli uno non può mettere la macchina dove ha voglia e il passaggio dei pedoni o delle biciclette è messo in sicurezza certamente la via Mazzini diciamo è l'asse principale del centro storico di Albino ha delle caratteristiche particolari delle sue peculiarità la sfida è proprio quella di trovare delle soluzioni proprio pratiche concrete per realizzare un arredo urbano all'interno di questo contesto che è quello della via Mazzini noi abbiamo fatto un primo incontro con non solo i commercianti ma anche i residenti cioè gli attori tutti gli attori protagonisti della via sono sia i commercianti ma anche e soprattutto i residenti e attraverso questo incontro abbiamo raccolto suggerimenti ma anche critiche e perplessità a fronte di questo bagaglio proprio di indicazioni che ci sono state date in una serata io direi davvero molto collaborativa dove anche chi si trova magari su posizioni diverse sono i commercianti sono i residenti hanno invece tra di loro trovato un dialogo un confronto e hanno prodotto davvero dei suggerimenti interessanti adesso stiamo procedendo a fronte di questo incontro tecnicamente a individuare con bindelle metro alla mano quelli che sono proprio gli eventuali stalli i parcheggi gli spazi di manovra per permettere ai residenti di entrare nei propri cortili nelle proprie corti per evitare di mettere ad esempio un arredo urbano una voliera una panchina che si mette in sicurezza i pedoni ma che poi rende difficoltoso al residente entrare nella propria casa nel proprio portone quando avremo definito da un punto di vista proprio tecnico diciamo delle misure e dei numeri questo percorso faremo una nuova restituzione in un'assemblea pubblica e poi bandiremo un concorso di idee che individui proprio la tipologia dell'arredo da sviluppare in via Mazzini nel centro storico ora la situazione per certi versi è difficoltosa soprattutto alla mattina ma non era così anche prima perché la ZTL riguardava il pomeriggio nel momento di maggior crisi in via Mazzini con una presenza eccessiva di automezzi ma soprattutto il fatto che ci sia un po' un parcheggio selvaggio riguarda soprattutto il mattino ma come era anche prima perché la ZTL ripeto era in vigore nel pomeriggio non è cambiato nulla se non che magari ci siano dei camion o dei furgoncini dei corrieri in meno alla mattina perché dando la possibilità di andare anche al pomeriggio non si concentrano tutti alla mattina è chiaro che i vigili stanno cercando di fare il loro dovere perché non è facile venire incontro alle esigenze degli avventori e dei residenti però a breve sicuramente avremo in mano un progetto e parliamo per la fine dell'anno o anche prima e partiremo con la realizzazione di questo arredo urbano per cui abbiamo trovato anche le giuste fonti di finanziamento per noi per la mia amministrazione questa è la soluzione più opportuna non dico che la pedonalizzazione di via Mazzini centro storico sia ahimè una cosa scandalosa o ritengo che la situazione soprattutto economica odierna non ci permetta di perdere ulteriori posti di lavoro da parte dei commercianti dei piccoli negozi di vicinato in via Mazzini sono i principali attori che tengono viva che presidiano la zona che presidiano il centro storico in questo momento è meglio evitare di perderne degli altri in futuro è abbastanza chiaro volevo sentire anche gli altri altrimenti non c'è più tempo Gualini su via Mazzini si è parlato a lungo e da anni che ovviamente ogni amministrazione prova a trovare una soluzione noi abbiamo trovato quella soluzione non era ottimale poteva essere migliorata sicuramente la situazione in questo momento cioè quindi con la revoca della ZTL è ulteriormente peggiorata è chiaro che l'intenzione dell'amministrazione è quella di andare a migliorare la situazione quindi trovare una soluzione al momento non è stata assolutamente trovata mi chiedo se ci si aspetta un po' troppo da un ulteriore progetto perché gli stalli sono quelli sono quei dieci non riuscirete con Bindella ad allargare via Mazzini ad allungarla a trovare uno spazio più grande tra un passo carabile e l'altro perché le caratteristiche di via Mazzini sono quelle sono caratteristiche che impongono una pedanalizzazione per una parte del tempo sicuramente superiore rispetto a quella odierna oltretutto il sindaco parla di una copertura finanziaria ma in questo momento noi davvero ci chiediamo cosa potrà essere messo sulla pedanalizzazione scusate sulla red urbano di via Mazzini perché le entrate che possono andare a finanziare l'arredo urbano di via Mazzini sono assolutamente incerte è vero che siamo sul piano triennale quindi sicuramente visto anche che ci sarà il tempo necessario al progetto non ci sarà il progetto prima della fine dell'anno e quindi non ci saranno neanche i lavori ma è fuori discussione che sarà estremamente difficile trovare le risorse inviterei davvero però a ripensare alla possibilità di instaurare la ZTL con orario più ampio perché l'incontro tra le esigenze delle persone che passano per via Mazzini e adesso sono veramente in difficoltà e le esigenze dei commercianti è più vicine a mio parere alla soluzione con la pedonalizzazione progressiva che non con la zona 30 che comunque garantisce il passaggio di auto su una strada stretta dove su due lati su due lati dobbiamo garantire il passaggio dei pedoni e un'infinità di passi carrali Ferrara? Per quello che ci riguarda noi su via Mazzini non eravamo entusiasti di quello che era la precedente situazione non siamo entusiasti di quella che è la situazione attuale ma per un semplice motivo perché entrambe le situazioni sono passate in termine sono carrate dall'alto ci sono state prese decisioni prese dall'amministrazione una volta dall'amministrazione di centro-sinistra una volta dall'amministrazione di centro-destra potrebbero essere anche delle soluzioni condivisibili però sarebbe anche da valutare magari di far scegliere alla cittadinanza come vuole che venga gestita la via Mazzini noi abbiamo sempre detto saremo per un referendum con cui far scegliere alla cittadinanza come deve essere gestita via Mazzini in maniera che poi via Mazzini possa tornare veramente ad essere fruita da tutti quanti nel modo migliore in assoluto la zona 30 sì potrebbe essere una buona soluzione si è vista anche in altri comuni della Bergamasca però necessita di lavori necessita di tanti lavori noi abbiamo raccorto in questi mesi in cui abbiamo continuato a fare banchetti anche su via Mazzini diverse proteste non solamente da parte delle persone che vengono a piedi ma anche da parte di alcuni commercianti che non sono soddisfatti di quella che è la situazione attuale ripeto per noi per il nostro movimento si punta molto sul discorso del referendum perché è una forma di democrazia diamo la possibilità agli albinesi di scegliere come vogliono che venga gestita la via Mazzini e quindi in quel caso se poi gli albinesi decidessero di volere la zona 30 piuttosto che la zona pedonale per noi sarebbe comunque una soluzione ben accetta allora siamo arrivati alla conclusione di questa trasmissione come avete visto ci sono diversi temi che animano la vita amministrativa della cittadina io devo ringraziare i miei ospiti e tutti voi per la vostra attenzione grazie e buon proseguimento di serata a tutti